Ciao, sono Alessio Menconi e sono qui per annunciarti la prossima masterclass di domenica 17 febbraio che terrò a Milano dal vivo ma soprattutto online in diretta su un canale privato di facebook al quale potranno accedere tutti gli iscritti. La cosa importante è che renderò il video poi disponibile per il download anche successivamente quindi tutti gli iscritti potranno scaricare e rivedere il video tutte le volte che lo vorranno. L'argomento appunto è il chord melody quindi tutto ciò che riguarda partendo da zero l'armonizzazione di singole melodie di standard fino ad arrivare ai block chord ovvero l'improvisazione con gli accordi. Se sei interessato mandami un messaggio o su facebook oppure alla mail management at alessiomenconi.com sia per partecipare a questa singola masterclass che a tutto il pacchetto di sei appuntamenti ognuno che riguarda un argomento ben preciso della chitarra jazz. Intanto ti ringrazio e ci vediamo in classe. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!